VACANZE AL SOLE Peppa e George partono per le vacanze. Riempiono le valigie di giocattoli. Ma non potete prenderli tutti. Noi dobbiamo portare tutti i nostri giocattoli, papà. Prendete quelli a cui siete più affezionati. D'accordo. Io porto con me Teddy. E George può portare... DINOSAURO! Mamma Pig sta preparando una grande valigia per le vacanze. Perbacco! Io credo che tu abbia esagerato, Mamma Pig. Sei sicura che ci serva tutto? Certo! Sono cose indispensabili. E va bene. È Susi Pecora. Ciao, ciao, Peppa. Ti va di venire a giocare? Mi dispiace, Susi. Oggi non posso. Vedi, sto partendo per le vacanze. Oh, e dove andate di bello? Veramente non lo so. In un posto dove si fanno le vacanze. Sarà sicuramente stupendo. Oh, Nonna e Nonno Pig. Come mai siete venuti? Non lo sai, siamo venuti per la piccola Goldie. Ci occuperemo di lei mentre voi siete in vacanza. Ecco qui, Goldie. Però non le date troppo da mangiare, Nonna. D'accordo, Peppa. Ecco il signor Toro con il suo taxi. Porterà Peppa e la sua famiglia all'aeroporto. Buongiorno, Papa Pig. Lasci che porti io la sua valigia. È pesantissima. Sicuri che vi serva tutto quello che c'è dentro? Sì, sono cose indispensabili. Ciao, buon viaggio! Ciao, Peppa! Questo è l'aeroporto. Arrivederci. Vi auguro una buona vacanza. Biglietti, prego. Ecco a lei. Avete bagagli? Sì, e temo che questa sia alquanto pesante. No, non si preoccupi. La metta su questo nastro. Contiene oggetti di valore? No. Qualcos'altro? Queste. Bene, tenetele pure con voi come bagaglio a mano e mettetevi in fila da quella parte. Grazie. Ecco la macchina a raggi X. E questa cos'è? È una macchina che riesce a vedere dentro le valigie. Mettete qui le vostre valigie, prego. Guarda, quella è la mia. E si vede Teddy dentro. Dinosauro! È una magia. Questo è l'aeroplano che porterà in vacanza Peppa e la sua famiglia. Aeroplano! A George piacciono gli aeroplani. Benvenuti a bordo. Ci auguriamo che questo viaggio sia di vostro gradimento. Io mi posso sedere vicino al finestrino? Ma certo, Peppa. Sì, George. Anche tu puoi sederti vicino al finestrino. Qui è il comandante dell'aereo che vi parla. Siete tutti pronti a partire? Sì, pronti, signor comandante! E allora, decollo! Sì! Guarda, Teddy! Visto, stiamo volando! Che cosa vedi fuori dal finestrino, Peppa? Ci sono tante nuvole e sta piovendo! Adesso c'è il sole! Perché siamo al di sopra delle nuvole. L'aeroplano vola sempre più in alto. Oh, allora voleremo fino al sole? No, ma andremo in un posto dove c'è sempre tanto sole. Viaggio in treno! Peppa e la sua famiglia stanno facendo colazione. Oh! Che cosa succede, Papà Pig? Devo partire immediatamente per un lungo viaggio di lavoro. E possiamo venire anche noi? No, vado per lavoro, Peppa. E poi c'è molta, molta strada da fare in treno. Ciuff, ciuff! Per favore, porti anche noi. No, sarà divertente. Ho del calcestruzzo da collaudare. Devo conoscere la densità relativa alla massa per poter calcolare i vuoti nell'aggregato. Anch'io voglio sapere queste cose. Ehm, tu che cosa ne dici, Mamma Pig? Io dico che sembra piacevole. Ma è a centinaia di chilometri da qui, perfino in un altro paese. Per favore, Papà Pig! E va bene. Partiremo tutti e quattro. Evviva! Questa è la stazione dei treni. La signorina Coniglio è il macchinista. In carrozza! A tutto l'amore! Stiamo quasi per arrivare, mammina. No, Peppa. È un viaggio molto lungo. Devi fare la brava ed essere paziente. Perché non canti una canzone per distrarti? D'accordo. Su e giù, su e giù. Il treno fa ciuff ciuff. Viaggia e va in paesi città. Mai si fermerà. Io l'ho cantata la canzone. Dovremmo essere quasi arrivati. Oh, no. Dobbiamo fare ancora tanta strada, Peppa. Pensa. Arriveremo a destinazione soltanto domani mattina. Mammina, come faremo stanotte? Dove possiamo andare a dormire? Qui, Peppa. Ma questa non è una camera da letto, papino. Guardate un po' qua. Dei letti magici. E qui è dove ci laveremo i denti. Evviva, c'è un bagno magico. E c'è anche un mini lavandino con dei mini rubinetti. E non è ancora tutto. Una tazza magica, bella. Mi domando a che serva questo pulsante. Papino ha riuscito a trovare la doccia magica. Desidera? Passaporti, prego. Oh, certo. Oh, così lei è signor Pig. Quel signor Pig. È stato chiamato per collaudare il nostro calcestruzzo. Eh, esatto. Come mai mi conosce? Oh, suo lavoro su calcestruzzo è famoso nel nostro paese. Ma chiedo scusa, la sto disturbando. Buonanotte. Buonanotte. È ora di dormire. Buonanotte, Peppa. Peppa e George. Notte, notte, tesorini miei. Notte, notte. Peppa e George dormono al caldo nelle loro cucette sul treno. Su e giù, su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città. Pa, 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 pa. Tutu. È mattina. È il momento di fare colazione sul treno. Bene alzati. Signorina Coniglio, lei non dovrebbe essere alla guida del treno? Sì, figuri. Il treno viaggia sui binari. Non possiamo perderci. Preferisce del caffè oppure del succo d'arancia? Li vorrei entrambi, per favore. No. O il caffè o il succo d'arancia. Non può averli tutti e due. Io non credo che dovremmo applicare così rigidamente regole con famoso signor Pig. Caffè e succo d'arancia. La ringrazio. Chiedo scusa. Io sono sua maestare, Alfonso. Desidererei anch'io avere del caffè e del succo d'arancia. No, non si può. Mi dispiace. Peppa e la sua famiglia sono arrivati alla fine del loro lungo viaggio in treno. È un grande onore averla qui da noi in visita, signor Pig. La ringrazio. Ed ecco qui il calcestruzzo che lei dovrà collaudare, grazie. È ottimo, direi. Evviva! Mi auguro vivamente che il viaggio in treno non sia stato troppo lungo e stancante, signora Pig. No, è stato gradevole. Papino, cosa facciamo ora? Beh, il mio lavoro è finito. Quindi riprendiamo il treno per tornare a casa. Oh, che bello! Così possiamo dormire sul treno un'altra volta. Peppa adora i lunghi viaggi in treno. Tutti adorano i lunghi viaggi in treno. Il camion dei pompieri. Mamma Pig è vestita da pompiere. Mammina, perché sei vestita in quel modo strano? Perché sto andando a seguire un corso da pompiere per le mamme. È una bella scusa per una tazza di tè e quattro chiacchiere. Beh, e tu che cosa farai oggi, papà Pig? Io ho una partita molto importante con la squadra di calcio dei papà. Cioè un mucchio di bambini cresciuti che prendono a calci un pallone. E poi faremo anche un bel barbecue. Sono arrivati il signor Toro, il signor Coniglio, il signor Pony e il signor Zebra. Volete dire a papà Pig che siamo qui per il barbecue? Andiamo! Mammina, possiamo venire a vedere il camion dei pompieri? Certo! Oh, che bello! Questa è la caserma dei pompieri della signora Coniglio. Benvenuti Peppa e George! Venite a vedere il camion dei pompieri. Ah, cipì! Camion pompieri! C'è una scala per arrampicarsi, un tubo per il getto dell'acqua e una grossa campana per suonare. Ding dong, ding dong! Adesso saliamo sulla torretta e vediamo se c'è un incendio. Salve a tutte quante! Ciao Peppa! Ciao George! Ah, che ne dite di una tazza di tè e quattro chiacchiere? Sarebbe molto gradevole. Uh, c'è anche il telefono! Peppa! Quello è il telefono delle emergenze. Si deve usare soltanto quando c'è un incendio. Ah! È il fuoco! È il fuoco! Qui è la caserma dei pompieri. Dov'è l'incendio? Dov'è l'incendio? Posso parlare con mamma Pig, per favore? Oh, è Papà Pig! Papà Pig! Non dovresti chiamare questo numero! È un telefono che serve solo per le emergenze! Ma questa è un'emergenza! Ho provato a cercare il ketchup dappertutto. Non riesco a trovarlo! Papà Pig, posso accendere il barbecue adesso? Sì, fai pure, signor coniglio. Fa molta attenzione col barbecue, Papà Pig. Fidati, mamma Pig. Noi papà sappiamo tutto a proposito dei barbecue. Ciao! Forse serve dell'altra carbonella. Proviamo a soffiarci un po' sopra. Secondo me c'è bisogno di usare degli altri fiammiferi. E adesso non ci resta che aspettare un incendio. E quanto tempo dobbiamo aspettare? Oh, potrebbe volerci chissà quanto. Io sto aspettando già da anni. Quanti incendi ha spento fino ad oggi, signora coniglio? Eh, nessuno! Neanche un solo incendio. Ma bisogna tenersi pronti. Suona il telefono delle emergenze! Ah, vuoi rispondere tu, Peppa? Probabilmente di nuovo il tuo papà. Va bene. Sì, pronto? Qui la caserma dei pompieri. Ciao, Peppa. Oh, papà! Ancora tu! Sei davvero disobbediente. Questo telefono serve soltanto per gli incendi. Puoi passarmi la signora coniglio? Per favore, fa la brava, Peppa. Il mio papà ha detto che vuole parlare con lei. Pronto, Papà Pig? Questo telefono deve essere usato soltanto quando c'è un... Incendio! Al fuoco! Oh, no! Il barbecue di Papà Pig è andato a fuoco. Al fuoco! Al fuoco! Mamma è a salvo raggio! Tenetevi forte! Al fuoco! Al fuoco! Tic-toc! Tic-toc! Il camion dei pompieri della signora coniglio è arriva! State indietro voi, papà! Mamma cane, apri la valvola dell'acqua! Sì, ricevuto, mamma Pig! L'incendio è spento. Evviva! Grazie del salvataggio, signora coniglio. Oh, non c'è di che. È la parte fondamentale del nostro servizio. Il servizio pompieri di noi mamme! E adesso, dato che la signora coniglio ha gentilmente innaffiato il nostro giardino, possiamo saltare tutti su e giù nelle pozzanghere di fango! Sì! Io adoro i camion dei pompieri, soprattutto quando formano le pozzanghere di fango! Il boomerang! La vacanza di Peppa a casa di Kylie Canguro è quasi terminata. Perché non andate a giocare in giardino mentre facciamo i bagagli? Va bene, mammina! È stata la vacanza più bella del mondo! Sono felice che tu sia qui, Peppa! Che peccato! Mi piacerebbe restare in Australia per sempre! Non essere triste! Ti ho fatto un regalo come ricordo! Tieni! Oh, che cos'è? Una banana? No! Un dinosaurio? No! Questo è un oggetto! Sì! Però non è un oggetto qualsiasi! Ti ho regalato un boomerang! Cos'è un boomerang? Il boomerang è un oggetto molto speciale per noi! Lo usiamo da tanti, tantissimi anni! Accipicchio! Sei gentile, Kylie! Oh, ma che cosa ci si deve fare? Si lancia in aria e si riprende! Come una palla! Una specie! Ma quando lo lanci il boomerang torna da te da solo! No, non ci credo, è impossibile! Te l'avevo detto io che era impossibile! Lo devi lanciare con più forza! George, perché non ci provi tu? Lo vedi che non funziona? È che voi non lo sapete lanciare bene! Lo dovete lanciare più forte! Come? Così? Guarda! Giù la testa! Visto, ce l'ho fatta! Il boomerang ha fatto il giro ed è tornato da Peppa! Che cos'è, Peppa? Questo è un boomerang, Pappino! Ah, certo! Se lo lanci tanto forte, fa un giro e torna indietro! Permetta che le mostri come si fa, signor Pig! Ecco, è pronto? Uno, due, tre! Lancio! Mi scusi, quando pensa che tornerai indietro? Beh... Guardate bene in giro! Il boomerang può essere ovunque! Ho come l'impressione che l'abbiamo trovato! Buongiorno! Questo è il signor Wallaby, il vicino di casa! Salve, signor Wallaby! Stavo solo insegnando ai piccoli come si lancia il boomerang! Mi dispiace per la sua finestra! Non c'è da scusarsi, vicino! Cosa vuole che sia un vetro rotto fra amici? Il signor Wallaby è un vicino molto gentile! Comunque faccia più attenzione! Grazie! Come le stavo dicendo, per lanciare il boomerang bisogna usare molta forza! Come? In questo modo? Così! Bravissimo, papà! Sta tornando indietro! Ecco che arriva! Ecco che arriva! Lo prenda, signor Pig! Mancato! Oh, no! Il boomerang ha rotto un altro vetro! Beh, forse è meglio andare! Finché ha qualche finestra ancora integra! Ah, no! Non potete andare via! Devo provare io! Amici carissimi, permettetemi di mostrarvi come si lancia il boomerang! Grazie, signor Wallaby! Ah, per me è un piacere! È a questo che servono i vicini! Dunque, il trucco è che bisogna tenere il boomerang più in verticale! Pronto? Lancio! Oh! Perfetto! Perfetto! È un ottimo lancio! Eccolo che torna! Che meraviglia, mi sembra! Oh, no! Qualcuno lo prenda! Che disastro! Il boomerang ha rotto un altro vetro! Allora, noi dobbiamo assolutamente andare adesso! Vuole una mano per cambiare i vetri? Eh, non si preoccupi! Questa volta è stata colpa mia! Il signor Wallaby è davvero un vicino molto gentile! Ci si vede! Ciao, ciao! Ci si vede! Dove vi eravate cacciati? Ah, stavamo lanciando il boomerang, sai com'è? Le finestre del signor Wallaby si sono... Ci siamo proprio divertiti, vero, piccolini? Tanto! Sono felice che tu sia stata qui, Peppa! Anche noi siamo molto felici, non è vero, George? Non dimenticare il tuo regalo! Oh, è vero! Il mio boomerang! Grazie mille! Torna a trovarci! Ma certo! Tornerà come fa il boomerang! Peppa ha trascorso la vacanza più bella del mondo in Australia da Kylie Kanguro! La sfilata di carnevale! Peppa e la sua famiglia assistono alla sfilata di carnevale! Ciao! Ci sono anche Susi Pecora e Molly Talpa! Ciao, ciao, Peppa! Siete qui anche voi per la sfilata di carnevale! Già, non vedo l'ora che inizi! Sono sicura che sarà meravigliosa! Ci saranno perfino i draghi che sputano fuoco! E anche delle persone magiche che volano! Speriamo che sia davvero così bella! Che cos'è? È già cominciata! No! Stanno soltanto spassando la strada prima dell'arrivo della sfilata, Peppa! Però il suono è molto piacevole! Usano spazzoloni e pattumieri per produrre della musica! La sfilata di carnevale è cominciata! Ecco il signor Toro e il suo allegro gruppo jazz! Il signor Pony, l'oculista! Ciao, ciao! Guardate! C'è Pedro su quel camion! Ciao a tutti! Ciao, ciao, Pedro! Vorrei fare anch'io la sfilata di carnevale! Sì, anche io! Oh, che cos'è? Ciao, ciao! Ah, cipicchia! C'è una barca che sta navigando sulla strada! Capitan cane e danni cane! Guardate! L'è il soccorso della signorina Coniglio! Ma dov'è la signorina Coniglio? La signorina Coniglio è la regina del carnevale! Non mi pare che stia facendo molta fatica! Questo è un grande cambiamento rispetto a tutti i lavori che fa di solito! Probabilmente è felice di starsene un po' in panciolle! Arriva il signor Patato! Prego, fate un applauso al vostro e mio amico... Il signor Patato ha un grosso palloncino a forma di patata attaccato alla macchina! Bello! Quello è di sicuro il più grande palloncino del mondo! Forza, venite, esultate, pimpurra! Il signor Patato è arrivato in città! Oh, no! Il palloncino sta volando via! Oh, il mio palloncino! Oh, è tutto a posto! L'ho ripreso! Tettiva! Oh, mi sta portando via con sé! Aiutatemi! Bisogna chiamare subito il servizio di soccorso! Pronto? Signorina Coniglio dell'elisoccorso! Il signor Patato vola via col palloncino! Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente! Un momento, non posso fare un salvataggio vestita così? Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! 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 Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina perché sono molto brava a comandare! Oh, anche io so comandare! Dovrei essere io la regina perché sono la più brava a fare il saluto! Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene! Io metto in testa la corona! E io mi siedo sul trono! Io invece indasso il mantello! Aiuto! Aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato! Sto arrivando da sotto con l'elicottero! Ah! Faccio attenzione! Ops! Scusi tanto, signor Patato! Si tenga forte! La raggiungo da sopra! Signorina Coniglio! Mi dica qual è il suo piano! Io non faccio mai piani! Improvviso a seconda della situazione! Pilota automatico inserito! Buona giornata! Ora è il pilota automatico a guidare l'elicottero! Ciao! Arrivederci! Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccia scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole! Allora allenterò il nodo! La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino! No! Ferma! Ferma! Fatto! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato! La ringrazio! Evviva! Ora posso tornare a fare la regina del carnevale! Io direi che adesso abbiamo ben tre regine del carnevale! Questo è il miglior carnevale di tutta la mia vita! Peppa adora il carnevale! Tutti adorano il carnevale! Spazio col paracadote! Oggi piove e il tetto della scuola gocciola di nuovo! Oh! Non avevo già riparato il tetto un'altra volta, Madame Gazella! Sì, signor Toro, ma come vede continua a gocciolare, plin plin! Probabilmente è solo colpa di una tegola che si è rotta! Mi domando se sia questa la responsabile! Ha smesso di gocciolare? No! Gocciola di più! Allora può darsi che siano queste le tegole rotte! Ma meglio, Madame Gazella? No! Sta andando sempre peggio! Certo che questo è un buco bello grosso! Serviranno un bucchio di soldi per poterlo aggiustare! Oh, cielo! Come faremo stavolta a procurarci i soldi per riparare il tetto della scuola? Il mio papà ha fatto un lancio con il paracadute per beneficenza! E quando è atterrato, ha raccolto un sacco di soldi! Evviva! Hai avuto un'ottima idea, Pedro! Alzi la mano! Chi di voi pensa che la propria mamma o il proprio papà voglia lanciarsi col paracadute? Via! Il mio papà ha fatto un sacco di soldi! Ne serve soltanto uno! Peppa e George sono tornati a casa! Mammina, sai, il tetto della scuola gocciola un'altra volta! Dici davvero, tesoro? Sì! E Madame Gazella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo! Certo, sono sicura che è così! Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute! Peppa, spero che tu non le abbia detto che papà sarebbe disposto! Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza! Ma l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi! Perfetto! Mamma Pig la ringrazia infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute! Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora! Sarà bravissima! Si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli! Oh, in questo caso lo farò molto volentieri! Un bel ora per mamma Pig! È il giorno del lancio di mamma Pig con il paracadute! Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio! Si ricordi che è per una buona causa, mamma Pig! Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo! Non si preoccupi, lei farà tantissimo allenamento prima! Buongiorno, mamma Pig! Il signor coniglio è un istruttore di paracadutismo! Questo è un normale paracadute! Servirà ad aiutarla a volteggiare in aria dopo che avrà saltato! Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto! Perché no? Brava! Le viene naturale! Basta, non c'è altro! È sufficiente! È una saltatrice esperta! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, papà Pig! Andrà tutto bene, mamma Pig! Per incoraggiarti salgo insieme a te! Buona fortuna, mamma! Non ti preoccupare, mamma Pig! Tieni sempre a mente che hai indosso il paracadute! Va bene, papà Pig! Oh, siamo molto distanti dalla Terra! Oh no! Papà Pig è caduto dall'aeroplano! Ecco, si è lanciata! No, un momento! Quello è papà Pig! Aspetta, arrivo papà Pig! Anche mamma Pig si è lanciata! Va a salvare papà Pig! Ti ho preso! Oh, l'ho afferrato! La mia mamma si è lanciata in soccorso! Ti ringrazio di avermi salvato, mamma Pig! Oh, papà Pig! Mi scivoli dalle mani! Il signor Toro ha appena finito di riparare il tetto della scuola. Gran bel lavoro! Adesso durerà per anni e anni! Non riesco a tenerti! Papà Pig! Oh cielo, papà Pig si è fatto male! No, tutto bene! Ottimo! Perché dovrà lanciarsi un'altra volta col paracadute, papà Pig! Per quale motivo? Per raccogliere il denaro che servirà ad aggiustare questo nuovo buco sul tetto! Oh! E va bene, lo farò! Un bell'urrà per papà Pig! Ambulanza! Peppa e i suoi amici sono a scuola! Ascoltate! Oggi il dottor Orso Bruno verrà da noi a mostrarci com'è fatta un'ambulanza! Mi piacciono tanto le amblumanze! Ambulanze! Ambulanze! Anche le ambulanze fanno Nina, 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 Nina! Sì, ti ringrazio Freddy! È proprio il suono della sirena! Ecco il dottor Orso Bruno! Buongiorno, dottor Orso Bruno! Buongiorno a tutti! Qualcuno di voi sa come si chiama questa? Sì, è un'ambulanza! Un'ambulanza! E chi è che sa dirmi a che cosa serve? A portare le persone che stanno male in ospedale! Sì, certo! Possiamo sentire il Nina, Nina, per favore, dottore! Come no! Di solito però la usiamo solamente nei casi di una vera emergenza! Dottor Orso Bruno, potrebbe mostrarci cosa si deve fare nel caso di una vera emergenza? Certo! Ve lo farò vedere con l'aiuto di questo orsacchiotto e di questa palla! Oh! Un giorno l'orsacchiotto stava giocando a pallone quando, ops, è inciampato sulla sua palla! Qualcuno ha chiamato un'ambulanza! Freddy, ti dispiacerebbe fare il suono dell'ambulanza? Nina, Nina, Nina! La prima cosa da fare è vedere se la persona è cosciente! È cosciente, signore? Sì, dottore! E saprebbe dirmi come si chiama? Il mio nome è signor Teddy! È in grado di dirmi che è successo, signor Teddy? Sì, sono inciampato sul mio pallone! È una cosa un po' sciocca, non trova? Mettiamo questo pallone dove nessun altro potrà inciamparci! Adesso mi dica, signor Teddy, dov'è che sente dolore? Mi fa tanto male il braccio! Allora facciamo subito una bella fasciatura, ecco qua! E dal momento che è stato tanto coraggioso, si merita un bel distintivo! Avete visto? È così che funziona un'ambulanza! Meraviglioso! Avanti! Dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno! Grazie, dottor Orso Bruno! È stato un piacere! E ricordate, guardate sempre dove mettete i piedi, altrimenti... Il dottor Orso Bruno rotola giù per la collina! Si è infilato dentro dei cespugli spinosi! Ha sbattuto contro un albero! E gli sono cadute delle mele in testa! Oh, che disgrazia! Chiamiamo un'ambulanza! L'ambulanza è qui, madame Gazzella! Oh, è vero! Tutti sull'ambulanza! Salite! Evviva! Stia tranquillo, dottor Orso Bruno! Ci siamo qui noi in soccorso! Grazie, ma non credo di aver bisogno di aiuto! Sono io il dottore, non deve dimenticarlo! Certo, ma noi dobbiamo eseguire i controlli! Io non penso proprio che sia... Non una parola di più! Allora, cosa dobbiamo fare innanzitutto? Controllare se è cosciente! Molto bene, Peppa! È cosciente, dottor Orso Bruno? Sì! Bene! Sì, è cosciente! È molto gentile da parte vostra, ma io... Chi sa dirmi cosa facciamo ora? Dobbiamo chiedergli il suo nome! Sì, ma in questo caso non trovo che... Come si chiama, signore? Dottor Orso Bruno! Adesso gli chiediamo che cosa è successo! Avete visto cosa è successo? Sono inciampato sulla palla e rotolato giù per la collina! Beh, è stata una cosa un po' sciocca! Lei non trova? In che parte del corpo sente dolore? Sento dolore in ogni parte del corpo! Sì, ma dov'è che le fa più male? Beh, il braccio e... Questa gamba! E poi mi fa tanto male la testa! Allora facciamo delle belle fasciature! Dal momento che è stato un dottore tanto coraggioso, lei merita un distintivo! Au! Au! Adesso dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno per averci fornito una così interessante dimostrazione di come funziona un'ambulanza! Grazie, dottor Orso Bruno! È stato un grande piacere! Il dottor Orso Bruno adora le ambulanze! Tutti adorano le ambulanze! La macchina nuova! Oggi Peppa e la sua famiglia faranno una gita con la loro macchina rossa! Che dite, tiriamo giù il tettuccio? Sì, che bello! A Peppa e George piace molto la macchina rossa! Siete tutti pronti? Certo! Allora si parte! Mi piace la nostra macchina! E alla nostra macchina piacciamo noi! Non è vero? Oh là là! Sembra che la macchina faccia i capricci! Che c'è che non va a papà? Eh, non lo so! Perché non la portiamo all'officina di Nonno Dog? Lui la giusterà! Ottima idea, Mamma Pig! Nonno Dog gestisce l'officina! È molto bravo a riparare le macchine! Caspiterina, Papà Pig! La tua macchina fa un brutto rumore! Per favore, la puoi aggiustare, Nonno Dog? Sì! Ma ci vorrà tutta la giornata! Oh! Veramente noi volevamo fare una gita in macchina! Tranquilli! Potete prendere questa macchina nuova mentre aggiusto la vostra! Evviva! Grazie, Nonno Dog! Volete abbassare il tettuccio? Sì, grazie! Allora, premo questo pulsante rosso! Che macchina intelligente! Al vostro rientro avrò riparato la macchina! Grazie, Nonno Dog! A più tardi! Arrivederci! Ciao, ciao! Arrivederci! A Peppa e alla sua famiglia piace molto la nuova macchina blu! Quanti pulsanti che ha questa macchina! Chissà che cosa serve quello verde, papà! Vediamo! Finestrini magici! Per favore, papà, riapri i finestrini magici! E il pulsante blu a che cosa servirà? Non lo so! Vediamo! Mi piace tanto questa macchina nuova! Possiamo tenerla? No, che non possiamo tenerla, Peppa! L'abbiamo presa in prestito per un giorno! Oh no! Credo che stia per piovere! Sì, tiriamo su il tettuccio! Ora, quale sarà il pulsante giusto? Ops, che sciocco sono! Ah, deve essere questo qui! No! La macchina nuova ha schizzato Papà Pig! Ciocchino, papà! Quello non è per il tettuccio! Questo pulsante! Ops! Non è quello! Allora è questo! Aiuto! Papà Pig ha dimenticato qual è il pulsante giusto! Io e questa macchina non andiamo d'accordo! Proviamo con il pulsante rosso! Evviva! Ora però ha smesso di piovere! Che ne dite? Riepriamo il tettuccio? Oh, sì! Quale pulsante era? Quello rosso! Evviva! Nonno Dog ha riparato la macchina! La vostra macchina è pronta! Evviva! Mille grazie, nonno Dog! E tieni pure il resto! Grazie, Papà Pig! A presto! A presto! A presto! Ciao, ciao! Ah, è bello essere nella nostra vecchia macchina! La macchina nuova mi piaceva, ma la nostra vecchia macchina mi piace di più! Credo che anche noi piacciamo alla nostra vecchia macchina! Non è vero? Una gita in treno! Oggi, Peppa e i suoi amici hanno organizzato una gita in treno! Il signor Coniglio è il capo stazione! Quanti biglietti servono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci! Dieci biglietti per i miei alunni e un biglietto per me, per favore! Mi raccomando, non perdete il vostro biglietto! Posso vedere il vostro biglietto, per favore? Temo di averlo perso! Oh, Pedro Distrattone, cerca di stare più attento! Eccolo il tuo biglietto! Cerca di non perderlo un'altra volta! Ehi, sta arrivando il treno! Ciuf, ciuf! La signora Coniglio è la macchinista. Conduce il treno. Tutti a bordo! Urra! Ciuf, ciuf, tu, tu, ciuf, tu, tu, il treno va su e giù! Corre, va, corre, va e presto arriverà! Attenzione! Queste sono le vostre schede! Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono. Una barca, un segnale ferroviario... E una galleria! Io vedo tanti alberi! Ma quelli ci sono sulla scheda? Ehm, no! Io vedo le nuvole! E le nuvole ci sono sulla scheda? No! C'è nonno cane in barca! Sei là, ragazzi! Buona giornata, nonno cane! Ma nonno cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno cane non c'è sulla scheda, non lo vedo! È al timone di una barca, però! E la barca sì che c'è sulla scheda! Urra! Tutti spuntano la barca sulla scheda. Biglietti, per favore! Il signor coniglio controlla i biglietti ai passeggeri. Penso di aver perso il mio biglietto! Oh, ma che sfortuna! Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro! Ti ci hai riseduto sopra! Mi raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony! Il treno sale lentamente sulla collina. Il treno scende rapidamente dalla collina. Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene. Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro! Puoi sistemarti vicino al macchinista! Dun da dun, dun da dun! Buongiorno, Pedro Pony! Che c'è? Non ti senti bene, poverino? Ti andrebbe di guidare il treno per un po'? Sì, grazie! Ciu-ciu-tu-tu, ciu-ciu-tu-tu Il treno va su e giù! Corre, va, corre, va E presto arriverà! Un segnale ferroviario! Quello c'è sulla nostra scheda! Urrà! Tutti spuntano il segnale ferroviario sulla loro scheda. Il treno si è fermato perché un personaggio importante deve attraversare i binari. È la signora Anatra con i suoi parenti! Oh, non abbiamo ancora visto una galleria, ragazzi! È diventato buio! Siamo in una galleria! È rimasta solo la galleria da spuntare. Urrà! Ultima fermata! Fine corsa! Tutti giù dal treno, subito! Scusi, signora maestra noi come facciamo a tornare a casa? Oh, Peppa! Siamo tornati al punto di partenza! Il treno ha percorso un grande cerchio! Biglietti, per favore! Pedro ha perso il biglietto un'altra volta! Scusa, Pedro! Potrei riavere il mio cappello, per favore? Ecco il biglietto di Pedro! Oh, ecco dove era finito il mio biglietto! Scottero di soccorso! Peppa e la sua famiglia sono alla festa dell'estate. Guardate! Un'esposizione di mezzi di soccorso! Nonno cane mostra il suo carro attrezzi. Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. Questo è il suono della sirena del mio elicottero. Elicottero in funzione, elicottero in funzione! Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo! D'accordo, saltate su! Che peccato! Non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva! Stiamo salendo in cielo! Certo! E può salire su in verticale. Scendere giù in verticale. Evviva! Evviva! E anche fare una bella girevolta. Povero papino! Si è perso il divertimento! Già, povero papà! Un gelato, per favore. È davvero buono! Non è meglio atterrare adesso! Emergenza! Emergenza! Chiamata per l'elicottero di soccorso! Sto arrivando! Siete fortunati! C'è un lavoro da fare! Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Buongiorno, cara signora coniglio. Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato. Ricevuto, signor Toro! Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita. Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Beh, non lo so ancora. Ci sono! No, lo calerò qui dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Ma papà è rimasto solo. Pronto? Papà Pig, potresti tornare a casa da solo. La signora coniglio ci sta dando un passaggio. Sì, va bene. Papà, papà! Siamo andati su e giù. E poi abbiamo anche fatto il giro della morte. Oh, quanto mi dispiace di essermelo perso. Ci vediamo a casa. Ma chi ha messo qui quel grosso tubo? Ah, ho trovato. Farò una scorciatoia. Che guaio. C'è un po' di fango. Avanti, macchina! Papà Pig ha bisogno di andare a casa. Papà Pig è bloccato. Chiederò a nonno cane di venire col carro attrezzi. Pronto? Qui il soccorso stradale. Sono bloccato nel fango. Può venire in soccorso, per favore? Mi scusi, papà Pig, ma sto spostando un grosso tubo di metallo che qualche incosciente ha lasciato in mezzo alla strada. La metto in contatto con un altro servizio di soccorso. Pronto? Qui i pompieri. Sono bloccato nel fango. Può venire il mio soccorso, per favore? Mi scusi, papà Pig, ma sto salvando una tartaruga che è bloccata su un albero. Vieni giù, T-Dolls. Non capisco perché ti piaccia tanto arrampicarti sugli alberi. Sei una tartaruga. Non si preoccupi, la metto in contatto con il servizio di soccorso più elevato del paese. Cos'è questo rumore? Ma io sto volando! L'elicottero della signora Coniglio ha salvato papà Pig. Evviva! Che fortunato, papà. Così ha fatto anche lui un giro in elicottero. Gli facciamo vedere di cosa è capace il mio elicottero. Sì! Può salire su in verticale. E puoi scendere giù in verticale. E anche fare una bella giravolta! A tutti piace andare su e giù e girare e girare sull'elicottero della signora Coniglio. Il trenino del nonno. Peppa e George sono andati a giocare a casa dei nonni. Che cos'è questo rumore? Il nonno sembra molto impegnato. Buongiorno, Peppa e George. Avete un tempismo perfetto. Ho appena finito di costruirla. E possiamo chiederti che cosa hai costruito? Ve la faccio vedere. Che bello, un trenino giocattolo. Questo non è un giocattolo. Il suo nome è Gertrude. È una locomotiva miniaturizzata. Ma allora per camminare avrà bisogno delle rotaie? Oh no! Ho dotato la mia Gertrude di normali ruote. Così posso usarla dove mi pare e piace. Nonno, possiamo salire su Gertrude? Saltate su! Motori al massimo! Ciao ciao nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno. Il treno del nonno fa ciuf 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 Il treno del nonno fa ciuf ciuf Tutto il di I maiali sul treno fanno oing coing coing Oing coing coing Oing coing coing I maiali sul treno fanno oing coing coing Tutto il di Ecco nonno cane con Danny cane Ciao ragazzi! Ciao, Danny! Vedo che giocate con un bel trenino. Giocare? Gertrude è una vera locomotiva. Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto. Senti, nonno, posso fare un giro sul treno? Certo, va pure, Danny, se trovi più divertente giocare su un trenino. Grazie, nonno! A più tardi! La signora Coniglio guida lo scolabus. Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi. Ciao, amici! Ciao, Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino. Io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuff-ciuff, ciuff-ciuff, ciuff-ciuff-ciuff, ciuff-ciuff-ciuff. Il treno del nonno fa ciuff-ciuff, tutto il D. Che grossa pozzanghera! Se non vogliamo rimanere impantanati, forse dovremmo prendere un'altra strada. No, è solamente un po' di fango. Coraggio, Gertrude, puoi farcela! Coraggio, autobus, puoi farcela! L'autobus è bloccato. Oh, accidenti! Buongiorno, signora Coniglio. Che cosa mi racconta? Mi sono impantanata. Le dispiacerebbe aiutarmi? Con piacere. Il suo carroattrezzi è abbastanza forte? È naturale. Ha funzionato? Eh, no. Ci servirebbe un mezzo più potente del carroattrezzi. Per caso posso esservi utile? No, non c'è niente di cui non posso occuparmi da solo. Grazie lo stesso. Mi è venuta un'idea. Per tirarmi fuori da qua, possiamo usare quel treno. Ehm, perché non provare, signora Coniglio? Il treno del nonno tirerà l'autobus fuori dal pantano. Motori al massimo! Coraggio, Gertrude! Siamo! Perfetto! Evviva! Ben fatto! È incredibile quello che un treno giocattolo può fare. Un giocattolo? La mia Gertrude non è affatto un giocattolo. Gertrude è il miglior treno del mondo. Il più bello di tutti. Il capitano Papa Pig. La famiglia di Peppa ha preso in prestito la barca del nonno. Ricorda, funziona così. Porta la leva tutta in avanti, se vuoi andare dritto. Agli ordini, nonno Pig. In avanti! Ehm, indietro per la retromarcia. Ehm, indietro per la retromarcia. Ehm, per favore, fa molta attenzione. L'ho riverniciata da pochissimo. Oh, insomma, basta. Sei proprio un vecchio brontolone. La mia ciurma è pronta? Sì, Capitano Papino! Allora, partiamo! Oh, la barca sta andando indietro. Oh, fa attenzione al ponte! Ops! Oh, ci è mancato poco. Ciao, ciao! Ciao, ciao! E buon divertimento! Spero proprio che me la riportino ancora tutta intera. Non preoccuparti, è in buone mani. Peppa, suona la campana. Agli ordini, Capitano Papino! Oh! Mi è venuta un po' di fame. A chi lo dici? La nonna ci ha lasciato il pranzo. È sotto coperta. E che cosa vuol dire? Significa che si trova al piano di sotto. Seguitemi. Peppa e George entrano nella barca. Wow! Questa cucina è proprio piccola. Dov'è il nostro pranzo? Il posto più ovvio sembra questo. Oh, questo! Mi sa che ti sei sbagliato. Allora deve essere qui. Neanche quello era il posto giusto. Questa cucina è organizzata in modo davvero strano. Wow! Il televisore! Il papà non riesce a trovare il pranzo. Basta, ci rinuncio. Se questa cucina fosse mia, il pranzo lo lascerei qui. Oh, eccolo finalmente! Peppa ha trovato il pranzo. Delizioso! Oh, ci sono le anatre! Buongiorno, anatre! Volete un po' di pane? Peppa e George adorano dare da mangiare alle anatre. Attenzione! Andiamo verso un canneto. Non preoccuparti! La barca ci passerà senza alcun problema. Siamo bloccati? No, faremo retromarcia. Ora siamo bloccati? Sì. Accipicchia. La barca del nonno non può più muoversi. Magari ha bisogno di una piccola spinta. Mi raccomando, sta attento. Tranquilla, so quello che faccio. Quando dico ora, tirate la leva. Agli ordini, Capitano Papino! Ora! Papà Pig è riuscito a liberare la barca. Evviva! Muoviti, papà! Salta sulla barca! Ma aspettate! Oh, no! Papà Pig è rimasto indietro. Devi vuotare più veloce, Papino! Tira quella leva! Cosa sta dicendo? Tira quella leva! Papà ha detto! Tira quella leva! Oh! Stai bene, caro? Sì, tutto a posto. Adesso torniamo indietro prima di imbatterci in un'altra avventura. Agli ordini, Capitano Papino! Sono via da moltissimo tempo. Spero che la mia barca sia ancora intera. Guarda, stanno arrivando. Ciao! Bentornati, ragazzi! Un attimo, la parcheggio subito. Guarda che non è una macchina. Devi dire ormeggiare la barca. Adesso ci penso io. Nonno Pig sta per ormeggiare la barca. Il segreto di un buon ormeggio è farlo con molta cautela. Attenzione al ponte! Cosa? Guarda dietro, nonno! Dietro dove? Oh! Mi sa che ho fatto un pasticcio, scusatemi. Il nonno ha rotto la sua preziosa barca! Su col morale, mio caro. Ti divertirai molto a ripararla, ne sono certa. Hai proprio ragione. Mi piace tantissimo riparare le cose. Posso venire a darti una mano, nonno Pig? Ma certo che puoi, tesoro! Camper! Oggi Peppa e Giorgio sono molto eccitati. Stanno per andare in vacanza. Oh, ma dov'è papà? Sta arrivando con una bellissima sorpresa. Quello cos'è? Questo è un camper, Peppa. L'abbiamo noleggiato per andare in vacanza. Guardate, questo camper ha proprio tutto. Questo pulsante serve a far uscire l'acqua. Bello! E questo pulsante fa funzionare la tv. E a cosa serve questo pulsante? Non ne sono sicuro. Sarà meglio non toccarlo finché non lo sapremo. Siete tutti pronti per andare in vacanza? Sì, mamma Pig! E allora via! Ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo. Questa cartina è un po' complicata. Papà, cerchiamo di non perderci, per favore. Non ti preoccupare, Peppa. Sono esperto nel leggere le cartine. Questo sì che è strano. Ci siamo persi? Proprio così. Arriva nonno cane con il nipotino Danny. Ciao, Peppa! Oh, ciao, Danny! Ci siamo persi! Persi? Vi si è rotto il navigatore? Come il navigatore? Certo! Quello che lei sta guidando è un camper 320. È un modello col navigatore di serie. Benvenuti nella macchina del futuro. Ah! Ecco a che cosa serviva quel pulsante. Dove volete andare oggi? Ma papino, il camper sta parlando! Ingegnoso, vero? La voce del computer aiuta a trovare la strada. Ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? Le lo indichi tu. Ehm, buongiorno, signora voce del camper. Buongiorno. Noi stiamo andando in vacanza. Ci può dire la strada? Ma procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo. Grazie per l'aiuto, nonno cane. Non c'è di che! Divertitevi in vacanza! C'è ne andiamo in vacanza con un camper giallo! Pericolo! Pericolo! Il livello dell'olio è basso. Cos'è l'olio? L'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà. E se il livello è basso vuol dire che sta per finire? No! Questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo. L'olio è terminato. Oh, cielo! Per fortuna ho una lattina di olio di riserva. Sei stato previdente, papà. Adesso basterà mettere dell'olio all'interno del motore e poi vedrai... Oh! Che succede? Qui dentro non c'è niente. Il motore è... è sparito. Arriva mamma pecora con la figlia Susi. Ciao, ciao, Susi! Ciao, Peppa! Abbiamo perso il motore del nostro camper. Avete perso il motore? Sì! È letteralmente sparito. Vorrei potervi aiutare, papà Pig, ma io non capisco niente di motori. Probabilmente sono troppo inesperta. Ma questo ha l'area di essere un motore. È vero. Lei ha fiuto, signora pecora. Il motore del camper è nella parte posteriore. Fatto! Ora c'è abbastanza olio. Molte grazie, signora pecora. Non c'è di che! Divertitevi in vacanza! Siamo quasi arrivati, papino! Salire sulla prossima collina. Ora siete arrivati a destinazione. Evviva! E ora al letto. Ma dove andiamo a dormire? Mamma Pig e io dormiremo su questo letto. E voi due dormirete di sopra. Ma qui non c'è nessun di sopra. Guardate qua. Il tetto del camper si sta sollevando. Il camper è proprio come la nostra casetta. Durante le vacanze, questa sarà la nostra casetta. Buonanotte, piccolini miei. Buonanotte! Tutti al mare! Peppa e la sua famiglia stanno andando al mare. A Peppa e Giorgio piace moltissimo andare al mare. Abbiamo portato tante cose. Stiamo attenti a non dimenticare niente quando ce ne andremo. Ombrellone, bossa di paglia, asciugamani, secchielli, palette e un pallone a poa. Bene. E ora, prima di iniziare a giocare, dovete mettervi un po' di crema solare. Il sole scotta. Per questo Peppa e Giorgio devono mettersi la crema. Ragazzi, proviamo questo pallone a poa. Come rimbalza! Ma che bel pallone a poa! George, tu mi lanci la palla e io la devo prendere. George, prendila! Ai ai, George è troppo piccolo per afferrare la palla. Non ti preoccupare, George. Ora che ne direste di fare due bracciate in mare? Sì, papà, che bello! Allora mettetevi braccioli, coraggio! Ecco fatto! Sei elegantissimo con questi braccioli, George. Tocca a me, tocca a me! Bene. Ora possiamo giocare in acqua. Ora! L'acqua è molto fredda? È gradevolmente tiepida. Attenzione! Sei tu che hai cominciato, caro! Ci siamo schizzati abbastanza, direi. Papino, mi piace tanto stare al mare. A Peppa e a George piace andare al mare. A tutti piace andare al mare. Peppa, George, è ora che ne dite di giocare con paletta e secchiello? Sì, bella idea, mamma! Papà, papà, ti possiamo ricoprire di sabbia? Ti prego, papà! Oh, e va bene. Evviva! Peppa e George ricoprono il papà di sabbia. Attenzione! Ecco fatto! E adesso non puoi più scappare. La mia testa si sta sorriscaldando. Mi passi il cappello di paglia. Beh, se me lo chiedi, per favore... Per favore, mi passi il mio cappello di paglia? Sì, te lo passiamo, papino. Che bellezza! Quasi, quasi schiaccierei un pisolino adesso. George, facciamo dei castelli di sabbia, dai! Peppa e George fanno dei castelli di sabbia. Prima mettiamo tutta la sabbia nei secchielli. Ecco qua. Adesso mettiamo i secchielli a testa in giù e li battiamo. Poi sfidiamo il secchiello. Ecco fatto! Un castello di sabbia. Ecco fatto! Un altro castello di sabbia. Peppa, George! È ora di andare a casa. Non dimenticatevi niente in spiaggia. Controlliamo se ci siamo dimenticati qualcosa. Asciuga mani, borsa di paglia, l'ombrellone e un pallone a pua. Non ci manca niente. Eppure ho la sensazione che manchi qualcosa. Ma certo! Dimenticavamo il cappello. Papà! Ci siamo dimenticati, papà! È vero! Ci siamo dimenticati il papà! Cosa? Che? Papà, pensa che stavamo quasi per lasciarti qui. Ma George si è ricordato di te. Beh, mi fa piacere che almeno George si sia ricordato di me. Corsa di beneficenza. C'è un forte temporale e dal tetto della scuola filtra la pioggia. Come possiamo raccogliere i soldi per aggiustare il tetto della scuola? Organizziamo una corsa di beneficenza. Cos'è una corsa di beneficenza? È una corsa durante la quale gli organizzatori raccolgono dei soldi. E più soldi vengono donati, più lunga è la corsa. Ottima idea, papà Pig! Lei quanto a lungo può correre? Cosa? Eh... Beh, io posso correre quanto vuole, madame. Ma papà, tu a malapena ti alzi dal divano! Che sciocchezza! Io ho una grande esperienza nella corsa. Bene! C'è qualcun altro che vuole correre? No! Grazie! Ma io darei dei soldi per vedere papà Pig correre. Sì, anch'io! Anche io! Meraviglioso! La ringrazio, papà Pig. Peppa e la sua famiglia mangiano gli spaghetti. Deliziosi! Sono rimasti degli spaghetti. Ma papà Pig, ne hai già mangiate ben tre porzioni. Mangiare mi dà energia. E ho bisogno di energia per la corsa di beneficenza. Ma hai anche bisogno di allenarti per la corsa. E se io mi allenassi a mangiare oggi e poi mi allenassi a correre domani? No, papà! Tu devi allenarti per la corsa subito, da ora! Avanti, papino! Inseguici! Questo è troppo facile! È facile correre giù per la collina. Ma è difficile correre su per la collina. Forse non avrei dovuto mangiare così tanti spaghetti. È il giorno della corsa di beneficenza. Madame Gazella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre papà Pig. Se papà Pig riesce a correre fino a qui... Quello è il supermercato! E fino a qui... È la stazione di servizio di mio nonno. E arriva fino a questo punto qui... È il castello ventoso. Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola. Lo faccio immediatamente! Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito! Adesso possiamo fare il picnic. Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno! Certo! Adesso deve correre fino al vero castello ventoso! Pronto? Al posto? Via! È via! Coraggio, papà Pig! Ce la puoi fare! Coraggio, scuolabus! Ce la puoi fare! Lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso. Adesso tutti possono godersi il picnic. Dell'acqua! Datemi dell'acqua! Ma che splendida calda giornata! È un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi, non trovate? Dell'acqua! Ho tanta sete! Papà Pig ha raggiunto il supermercato. Tutto questo correre gli ha fatto venire una gran sete. Forza, dai un'occhiata con il cannocchiale! Riesco a vedere papino! Con il cannocchiale si vede tutto più vicino. Oh, non sta andando molto veloce! Papà Pig è arrivato alla stazione di servizio di nonno cane. Oh, basta! Non ce la faccio più! Papà si è fermato! Sembra molto accaldato! Ha bisogno di qualcosa che la rinfreschi e che le ridia energia! Ecco, prendo un ghiacciolo! La ringrazio, nonno cane! Sì, ci voleva! Oh, una vespa! Sciò! Sciò! Vabbia, piccola peste! La vespa vuole assaggiare il ghiacciolo di papà Pig! No! Questo ghiacciolo è tutto mio! Eccora, papà ha ricominciato a correre! Molto in fretta! Vittima! Vattene! Vattene! Adesso si può fermare, papà Pig! Abbiamo abbastanza soldi per riparare il tetto! Papà Pig si è liberato della vespa! Bene, bravo, papà Pig! Questa corsa in più ci ha permesso di raccogliere abbastanza soldi anche per un nuovo scolabus! Tante grazie, papà Pig! È stato un grande piacere! Papà appende una foto! Mamma e papà Pig hanno una nuova foto di Peppa e George! Appendiamo questa bella foto di Peppa e George al muro! Lascia fare a me! Sono io l'esperto del fai-da-te in questa casa! Sei sicuro di saperlo fare? Ma certo! Basterà mettere un chiodo nel muro e appendere la foto al chiodo! Molto bene! Io vado a trovare la nonna e il nonno! Ci vediamo più tardi! E per favore non fare pasticci! Pasticci! Ciao! Ciao, papina! Papino, possiamo aiutarci ad appendere la fotografia? Potete guardarmi, così imparate come si fa! Prima di tutto ho bisogno di un metro a nastro E di una matita Ecco! Il chiodo lo metterò proprio lì! Attento a non rompere il muro, papà! Ho, 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 ho! Ora ho bisogno di un martello e di un chiodo Fate largo, bambini! E guardate un artigiano al lavoro! Il papà sta per mettere un chiodo nel muro Attento a non rompere il muro, papà! Ho, 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 ho! Non essere sciocca, Peppa! Un gioco da ragazzi! Oh, questo non era previsto! Il papà ha fatto una grossa crepa sul muro Oh, guarda, papà! Che disastro! Si è rotto tutto il muro! Ma no, è solo una piccola crepa La fotografia la coprirà Ecco fatto! Io la vedo ancora la crepa, papà! Eh, sì! Basterà togliere il chiodo e poi stuccare la crepa Non combinare altri disastri! Oh, oh, oh! Non dire sciocchezze, Peppa! Oh, eccolo sta venendo fuori! Oh, oh! Oh, papà! Ora il muro si è rotto davvero! Mmm... Secondo te la mamma ci farà caso? Eh, sì! Ho paura che non ne potrà fare a meno! Vieni, George! Ma che cosa fanno quei due? Papà, cucù! Ti vediamo benissimo! Ah, 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 ah! Il papà deve riparare il muro prima che la mamma rientri Mattone, per favore! Il papà riempie il buco di mattoni Ecco fatto! E ora il papà mette l'intonaco È un gioco da ragazzi! Poi dipinge il muro È praticamente nuovo! Il muro è riparato! Urra! Ma guardate che disastro hanno combinato! Oh, povero me! Meglio dare una pulita prima che torni la mamma! Prima il papà lava rapidamente Peppa e George E poi Peppa passa all'aspirapolvere Il papà ripulisce gli attrezzi Oh, mamma! È tornata la mamma! Mamma! È tornata la mamma! Presto! Fate finta che non sia successo niente! Ah, ciao a tutti! Ciao! Che cosa avete fatto oggi? Eh, ma niente! Eh sì, lo vedo anch'io che non avete fatto un bel niente Ma non dovevate appendere la nuova foto? Con tutto quel trambusto il papà si è dimenticato di appendere la fotografia Oh! Beh, io non sono un'esperta ma sono sicura che non è difficile Ecco fatto! Sì, è stato piuttosto semplice Però quando ci hai provato tu, papà sembrava molto più difficile Silenzio, Peppa Non devi dirlo a nessuno Paffa ginnastica La mamma sta guardando un programma televisivo per tenersi in forma Perfetto, continua così e piega e allunga e piega e allunga Ah, mi piace vedere la televisione Che cosa trasmettono? È un programma che insegna una ginnastica per mantenersi in forma Oh, grazie al cielo non ho bisogno di fare ginnastica io sono in forma perfetta Veramente non mi sembri molto in forma, papino hai un pancione leggermente grandissimo Sono in ottima forma invece te lo dimostrerò Da cosa vogliamo cominciare? Toccati gli alluci così come faccio io Facilissimo Papino smettila di far finta che non riesci a toccarti gli alluci dai Eh, non sto affatto facendo finta, Peppa Il papà non riesce davvero a toccarsi gli alluci Che cosa ti dicevo, papà? Non sei molto in forma Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica Sì, papà caro Beh, inizierò da domani Caro Se vuoi farlo davvero devi iniziare subito Oh Sta tranquillo, papà Sarò la tua allenatrice Oh, e va bene Peppa, hai il compito di rimettermi in forma Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra Vai Facile Uno Due Molto bene, papà Ora devi farne come minimo centocinquantacinque Centocinquantacinque? Certo Avanti, bambini Aiutatemi a preparare il pranzo Vi do una mano anch'io Oh, papino Tu devi fare centocinquantacinque flessioni Ricordati Oh Uno Due La mamma, Peppa e Giorgio sono in cucina a preparare il pranzo Mentre il papà non ha ancora finito le flessioni Papà se la sta cavando molto bene Dieci Sì Speriamo solo che non sia troppo duro per lui Vado a controllare Tredici Quattordici Quindici Sedici Diciassette Papà Sei un imbroglione Dovevi fare le flessioni a terra però Oh C'era un programma interessante in televisione Brutto cattivone Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cicletta Ah Mi sembra un'ottima idea Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione È un'impresa impossibile Questa cicletta è troppo rumorosa Non si sente la televisione Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te Ideona Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina Giusto Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa Papino Quelli sono i pedali Qua ci sono i freni E questo è il campanello Sì, sì, grazie Peppa, lo so Ciao, ciao Un gioco da ragazzi Tenersi in forma è faticoso Così posso fare un po' di moto senza affaticarmi Il papà sta andando molto veloce Forse dovrei andare un po' più lento Devono essersi allentati i freni Aiuto Ormai il papà è fuori da parecchio tempo Mammina, ma quando torna papino? Non ti preoccupare Peppa Evidentemente si sta divertendo molto Per questo non è ancora tornato Papino Ma che fine avevi fatto? All'andata ho fatto la discesa a grande velocità Ma al ritorno me la sono dovuta fare tutta a piedi Oh, povero papà Pig Beh, perlomeno ho fatto un po' di movimento Sì, allora per oggi basta Che cosa vuoi dire? Che domani dovrei fare dell'altra ginnastica Cosa? Papà, ricordati che per mantenerti in forma devi fare un po' di movimento tutti i giorni Oh, no Ma non ti preoccupare papà, hai me come allenatrice personale Sì, allora conto su di te Area giochi È mattina Peppa e la sua famiglia fanno colazione Oh, è arrivata una lettera per George È un invito alla festa di compleanno di Richard Coniglio Sarà divertente Porterò io George alla festa Sempre che non si svolga in quella terribile area giochi C'è scritto area giochi A papino non piacciono le feste nell'area giochi L'ultima volta che ci è andato è rimasto incastrato Ed è stato salvato da un elicottero Da un camion dei pompieri E da una gru Non è andata esattamente così, Peppa C'era soltanto un elicottero Io dico che l'area giochi è carina Comunque ti accompagno io, George È il giorno della festa di Richard Coniglio Ciao Edmond Torno a prenderti più tardi Mi farebbe molto piacere se lei restasse Eh, l'area giochi, non è vero? No, grazie Buongiorno, mi farebbe molto piacere se lei restasse Ci vediamo dopo Buongiorno, signora Coniglio Salve, mamma Pig Se non ha intenzione di rimanere, la capisco No, no, resto Noi adulti potremmo farci una tranquilla chiacchierata Mentre i piccoli giocano e si divertono Oh, sono contenta Questa è l'area giochi Dove ci sono soltanto oggetti morbidi Così i piccoli possono saltare Dondolarsi Intrupolarsi Scivolare E giocare È fantastico I piccoli si stanno divertendo così tanto Già, speriamo di riuscire a portarli via dopo I piccoli hanno giocato tutto il giorno Forza, è ora di tornare a casa È stata una bellissima festa, non è vero? Sì E vi siete divertiti? Sì E ora siete pronti per tornare a casa? No Povere noi Non riusciremo mai a farli uscire C'è soltanto un modo per farlo Devo entrare anch'io Auguri Sono incastrata Aiuto Non si preoccupi Sto arrivando Ci sono quasi No Sono bloccata anch'io Aiuto Salve Il signore elefante è venuto a prendere Edmond Signore elefante Aiuto Siamo incastrate Non preoccupatevi signore Vi tiro fuori io Non lo faccia Si incastrerà anche lei È una trappola No Sono incastrato Papà Pig Peppa e Susi Sono venuti a prendere George Ma quanto siete carini tesorucci Dove sono i vostri genitori? Aiuto Siamo incastrati Questo di solito è quello che succede a me Anzi È esattamente quello che succederà anche a me Dovrò entrare lì dentro E resterò incastrato Possiamo entrare io e Susi Noi siamo più piccole Gentile da parte vostra Ma questo è compito mio Come adulto Aspetta a me Sacrificarmi Ma papino Sta tranquilla Peppa Se dovessi restare incastrato Avvertirò i soccorsi Sì Sono incastrato Fortuna che ho con me il telefono Pronto? Servizio di soccorso? Oh Vedo che è qui anche lei Sì Non posso muovermi in questo momento Allora non c'è nessuno che possa salvarci Ci siamo noi papino Noi piccole salveremo voi grandi No Mi fate il solletico Evviva! Mille grazie per averci salvati Peppa e Susi I pipì I pipì Hurra! Adesso possiamo tornare tutti a casa I piccoli rientrano nell'area giochi Peppa fa uscire tu i tuoi amichetti Grazie Certo papino Ma prima anche noi dobbiamo giocare un po' Peppa e Susi adorano l'area giochi Tutti adorano l'area giochi Il dipinto Peppa e George oggi vogliono dipingere Ci serve un foglio di giornale da mettere sopra il tavolo Sì! Papà Pig lo sta ancora leggendo Vi farò usare il giornale Dopo che avrò finito di leggerlo Giocate pure! Evviva! Ora possiamo iniziare a disegnare Non si fa così George I bambini grandi non mettono le mani nei barattoli dei colori George adora dipingere con le mani Peppa adora dipingere con le mani Siete molto bravi Mi daresti una patata per favore? Ma non sono ancora cotte papà Pig Per caso hai già fame papà? Non ho intenzione di mangiarla Guardate un po' qui Cosa vorrà fare papà Pig? Ora chi di voi mi sa dire che cos'è questo? Ma è un fiore! Bravissimo papà Adoravo dipingere quando ero un giovane maialino Dove sono i miei vecchi strumenti? Papà ma come mai ti sei messo quello strano cappello? Questo strano cappello è un basco Mi serve per riuscire a trovare l'ispirazione Allora che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto George Dipingerò il vecchio albero di ciliegio Che cos'è quello? Si chiama cavalletto Peppa Serve per appoggiare la tela E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge un po' come i fogli di carta che usate voi E quello cos'è? Dentifricio? Oh 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 No tesoro Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti Bene, con che colore volete iniziare? Rosso per favore Perché il rosso Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito papà Pig Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro naturalmente Molto bene Iniziamo con l'azzurro E ora disegniamo l'albero Ci serve un po' di verde per le foglie Ma il verde non ce l'abbiamo Non preoccuparti Se mischiamo un po' di azzurro con del giallo Possiamo creare il verde Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde Facciamo tante belle foglie verdi E in basso un po' di erba E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo Possiamo crearlo noi Basterà mischiare verde e rosso Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa Bagna il tuo dito nel colore E premilo sulle parti verdi Uno, due e tre Ben fatto George, tocca a te adesso Sei davvero un grande pittore Complimenti Perfetto Abbiamo finito il dipinto Urrà! Oh, ci sono le anatre Salve signora anatra Abbiamo appena fatto un dipinto Le anatre stanno correndo sulla tavolozza Shou! Shou! Non si fa così! Andatemene Shou! State lontano dal nostro dipinto! Oh no! Le anatre hanno lasciato delle impronte colorate su tutto il dipinto Oh, caspiterina! Che cos'era tutto quel rumore? Mamma! Le anatre hanno rovinato il nostro dipinto Fatemi vedere Le anatre stanno lasciando impronte dappertutto Proprio come hanno fatto sul dipinto Il dipinto non è affatto rovinato Peppa Anzi, è perfetto Evviva! Oh, è vero In effetti io sono un artista molto esperto Proprio come le anatre A scuola è il momento della ricreazione Peppa e i suoi amici corrono e si divertono Ai! Che dolore! Che ti sei fatta, Peppa? Mi sono fatta male al ginocchio Signora maestra, guardi Peppa è caduta a terra Ti sei solo sbucciata il ginocchio, Peppa? La maestra prima disinfetta il ginocchio di Peppa E poi le mette un cerotto Ora ti senti un po' meglio? Sì, molte grazie Dunque, ascoltate Forse avrete notato che Pedro Pony stamattina non è venuto a scuola È di nuovo in ritardo? No, Susi Pedro Pony è ricoverato in ospedale E oggi noi andremo tutti a fargli visita Peppa e i suoi amici vanno a trovare Pedro Pony in ospedale Una raccomandazione Restate vicino a me Non vorrei proprio che vi perdeste Sì, madonna Gazzella! Chiedo scusa, signor Toro Sa dirmi per cortesia dove si trova il reparto dei piccoli? Giù per le scale, passa due porte Destra, sinistra, destra Tutto il corridoio, su per le scale, terza, sinistra Oppure potete prendere l'ascensore Pedro probabilmente dorme Perché chi è a letto malato dorme sempre tantissimo Ciao, amici miei! Ciao, ciao, Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo! Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro Io disegno un pallone da calcio Io disegno un fiore! Io disegno il patato! Un pappagallo! E io ho disegnato una pozzanghera di fango! Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino Grazie, Pedro! Pedro Pony, raccontaci come si sta in ospedale È fortissimo! E sono brave le infermiere! Mi hanno regalato gli stickers! E poi arrivano, tutte le volte che spingo, questo pulsante Mi domando, che può essere? Non sarà Pedro, forse? Che cosa vuoi, Pedro? Noi infermiere siamo molto occupate Ho tanto, tanto prurito Anche se la gamba ti prude tanto non ti possiamo togliere il gesso finché non siamo sicure che sia completamente guarita No, non è la gamba che mi prude Mi prude tanto questo orecchio Ecco, così va meglio? Sì, la ringrazio È ora di pranzo! Che cosa desideri mangiare oggi, caro Pedro? Potrei avere spaghetti al burro e budino di fragola, per favore Ma tu mangi restando a letto? Sì! Sembrano davvero saporiti Il dottor Orso Bruno è venuto a visitare Pedro Che mi dici? Come andiamo oggi, Pedro? Ho un orecchio che mi prude un pochino Proprio in questo punto Secondo me stai già molto meglio, Pedro L'orario di visita è finito Ciao, ciao, Pedro! Ciao! A presto! Guaresci in fretta, caro! Certo, signora maestra! È un altro giorno di scuola Peppa e i suoi amici giocano in cortile Signora maestra Il mio cerotto si è staccato ed è caduto Ne posso avere un altro, per favore? Non hai più bisogno di cerotti Peppa e il tuo ginocchio sta molto meglio Oh, è vero! Ciao, ciao a tutti! Pedro Pony è tornato Oh, bentornato Pedro Pony! E il gesso che avevi? Dov'è finito? Me l'hanno tolto perché la mia gamba sta molto meglio E ti sembra abbastanza forte adesso? È molto più forte di come era prima, sapete? Anzi, è una super gamba! Ci puoi anche correre? State a guardare! A Pedro piace correre e divertirsi A tutti piace correre e divertirsi Le maschere! Un nuovo giorno di scuola per Peppa e i suoi amici Ben tornati a scuola, piccolini Dov'è, Madame Gazella? Eccomi qui! Con la maschera non mi riconoscevate? Perché si era travestita! Esatto! E oggi costruiremo tutti delle belle maschere E viva! Abbiamo del cartone, dei fogli colorati Matite e pennarelli Piume, scovolini, bottoni e pom pom! Si può usare la porporina Niente, porporina Per favore, Madame Gazella Per favore, Madame Gazella No, ho appena finito di pulire Dopo l'ultima volta che avete usato la porporina Adesso costruite le vostre maschere Peppa usa carta velina colorata Ecco, io ho fatto una maschera a forma di farfalla Danny Cane sta usando dei bottoni e delle cannucce Io invece ho costruito una maschera da robot Susy Pecora usa delle piume Io ho fatto una maschera da guffo magico Io ho fatto una maschera da supereroe E ho fatto una maschera da carota E il mio fratellino Richard è una mini carota Guardate, a noi piacciono le carote George ha fatto una maschera da dinosauro Dinosauro! Bello! Dimmi, Edmond, la tua che maschera è? Questo è il sistema solare Con tutti i pianeti Già, certo Ho incluso anche Plutone Malgrado venga classificato soltanto come planetoide Molto bene, Edmond Edmond Elefante è un sapientino Allora, avete finito tutti? La mia sarebbe più bella con un po' di porporina Per favore, possiamo avere la porporina, madame gazzella? Porporina! 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 E' un gigante che potete usare? Nessuno è bello come la porporina! 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 No, la porporina si sparpaglia ovunque È difficilissimo liberarsene una volta che si rovesce È una vera e propria seccatura Però è così speciale e magica Per favore, possiamo avere la porporina? Per favore! Oh, e va bene Ma una condizione Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo Vado ad aprire l'armadietto della porporina Madame gazzella tiene la porporina ben chiusa a chiave Ricordate bene Avete promesso di usare la porporina con molta, molta attenzione È ora di tornare a casa e i genitori sono venuti a prendere i figli Oh, porporina! Niente panico! Prego, restate calmi C'è stata una fuoriuscita di porporina ma la situazione è sotto controllo Oggi hanno tutti lavorato alla creazione di maschere Oh! Io ero venuto qui per portare a casa Peppa e George Ma non riesco a vederli da nessuna parte Io sono una bella farfallina Svolazzo, svolazzo, svolazzo Chiedo scusa, signorina farfallina Io sto cercando due maialini Sa dove posso trovarli per caso? Va bene, ci ho preso in giro Visto, sono io Peppa! Ma che sorpresa! Dove sarà finito George? Oh! George, ma sei tu? E io che ero convinto che fosse un dinosauro Madame Gazzella, non riesco a trovare Rebecca e Richard Mi dispiace se invece porto a casa queste due carote? Ma come? Mamma scioglina, siamo noi! Oh! Rebecca, Richard! Andiamo, Pedro Si torna a casa Io non mi chiamo, Pedro Io sono Super Pony, mamma Oh! Super Pony vuole venire a casa O preferisce restare qui a scuola a dormire? Ti prego, portami a casa con te, mamma Non sapete quanto ci siamo divertiti A fare queste splendide maschere? Lei chi sarebbe? Ma sono io! Madame Gazzella! Oh! Madame Gazzella adora le maschere Tutti adorano le maschere! Il progetto scolastico Peppa e i suoi amici sono a scuola Silenzio! Chi di voi sa dirmi che cos'è questo? Io, è un castello Proprio così? Bravo, Danny! E come progetto scolastico voglio che andiate a casa e che vi ingegnate a costruire un castello Evviva! Potete costruirlo con qualunque oggetto usato o possiate trovare in casa vostra Cartoni, bottiglie di plastica, scatole delle uova Posso usare le porporine? Mi prego, non troppa porporina, finisce dappertutto Posso fare un castello molto grande? Potete farlo grande quanto volete! L'unico limite è l'emaginazione, ricordatelo sempre! A casa di Peppa è ora di colazione Mammina, papino, ho una grandissima notizia da darvi Quale sarebbe, Peppa? Ho un nuovo progetto scolastico da fare a casa Un progetto, hai detto? E di che cosa si tratta? Devo costruire un castello! Che bellezza! Perché non usi questa scatola di cereali vuota? Incollando dei vasetti di yogurt su un lato, cosa ottieni? Una scatola con dei vasetti sopra No, papino! Il mio deve essere un castello bello! Peppa, che ti ha detto di fare esattamente, Madame Gazella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, papino E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro Sì, capisco Oh cielo! A casa di Susi Pecora è ora di colazione Madame Gazella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse? Sì! Anche con tutti quei pezzi complicati! Salve, buongiorno! Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico Per sua figlia? Sì, esatto Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela Così voglio che diventi il mio castello, però molto molto più grande Se deve essere così grande bisognerà usare del cemento No, papà Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste Abbiamo una scatola così grande? Ehm... no Salve, una consegna per papà Pig Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto No, papino, serve a noi questo scatolone Guarda che cosa ho trovato Bene, così il tuo castello è quasi fatto Evviva! Non è per niente quasi fatto Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te Peppa, Susi Pecora Ciao Susi, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo! Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte Il tuo castello a che punto è invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino Che cosa ne pensi di queste torri, Peppa? Molto bene, ma così sembra ancora troppo uno scatolone, papà Che cosa ne diresti se lo dipingessi? Scusa, ma ora devo andare avanti con il lavoro, Susi Ci vediamo domani Ciao, ciao, Peppa Ora che cosa ne pensi? Bello! Adesso sembra proprio un castello vero, papà Oh, ce l'abbiamo fatta! C'è soltanto bisogno di un'ultima cosa Porporina! Oh, la porporina farà sembrare il castello un po' meno vero E comunque, abbiamo finito tutta la porporina Peppa e i suoi amici hanno portato a scuola i castelli Oh, un palazzo delle principesse? Deve essere stato complicato per te costruirlo, Susi? No, è stato facilissimo! Il mio castello è stato costruito con uno scatolone di cartone Il tuo è un castello veramente meraviglioso, Peppa Grazie, Madame Gazella Pedro, e tu non hai costruito un castello? Sì, l'ho fatto Però è venuto troppo grande per portarlo a scuola L'abbiamo costruito con dei blocchi di pietra Non è favoloso quello che i piccolini riescono a creare Utilizzando soltanto la loro immaginazione? Il mio castello è talmente grande che ci posso perfino vivere dentro Peppa adora i progetti scolastici Tutti adorano i progetti scolastici Pedro, il cowboy È una bella giornata di sole Pedro ha una nuova tenda giocattolo Ecco Peppa, George, Danny Cane, Susi Pecora e Wendy Lupo Ciao, Pedro Pony! Ehi là, amici miei! Benvenuti al mio accampamento dei cowboy! Ma quella è una tenda? Sì, una tenda d'accampamento Dove i cowboy vanno a riposare quando è notte Così hai deciso di dormire qui tutte le notti? No, penso che col buio avrei un po' paura Ma possiamo fingere che il sole sia già tramontato Ma il sole splende ancora in cielo Basta fare finta che il sole sia la luna Va bene! Pedro Pony, possiamo fare anche noi i cowboy? Certamente! Sarete i miei compagni di avventura! Allora, il mio piccolo cowboy ha fame? Sì, una fame da coyote! Noi cowboy di solito diciamo così Secondo me tutti voi siete molto affamati Non mi sbaglio, vero? Sì! Tante grazie, mamma Pony! Ma i cowboy si accampano sempre vicino alla cucina della loro mamma per mangiare? No! Adesso dovete fare finta che qui intorno non ci siano case Questo è il Selvaggio West, amici miei! Come hai detto, scusa? Il Selvaggio West è il territorio dove vivono tutti i cowboy del mondo E che cosa fanno i cowboy? Raccontano tante storie, cantano tante canzoni e mangiano tanti fagioli Pane tostato e fagioli per tutta la banda! Evviva! Ai cowboy piacciono pane tostato e fagioli A tutti piacciono pane tostato e fagioli Chi vuole cantare una canzone da cowboy? Tu conosci una vera canzone da cowboy, Pedro? Non proprio, me la sono inventata E la melodia è più o meno così Sono un cowboy che mangia fagioli Badabim, badabam, badabu Fagioli bolliti, fagioli al ragù Ne mangiano petto la mangia neanche tu Fagioli bolliti, fagioli al ragù Ne mangiano petto la mangia neanche tu Entriamo in tenda e raccontiamoci delle storie Amici, comincio io a raccontare Una storia che faccia paura Era una notte freddissima e tempestosa Nel favoloso e selvaggio West Gli animali selvatici erano a caccia Affamati in cerca di cibo Cercavano da mangiare nel pieno della notte? Sì, certi animali mangiano proprio di notte Gli animali selvatici E il coraggioso cowboy Pedro Era solo soletto nella sua tenda Ma non riusciva a prendere sonno Perché dall'esterno arrivavano dei rumori Erano gli animali selvatici, non è vero? Avete sentito? Un animale selvatico, aiuto! È un passerotto incuriosito dalla tenda di Pedro Mentre eravamo in tenda pensavo che fosse un'aquila Perché ci sono tante aquile nel selvaggio West Va tutto bene, cowboy? Sì, mammina cara È quasi ora di rientrare Veramente non abbiamo ancora fatto finta di andare a dormire Rientriamo tutti nella tenda! Buonanotte, amici cowboy Buonanotte, cowboy metroponi Sono molto contenta che fuori dalla tenda non ci siano animali selvatici Animali selvatici! Questo è un lupo! Certo, è il mio papino Il signor lupo è venuto a prendere Wendy Tutti i genitori sono venuti a prendere i loro figli Arrivederci, cowboy metroponi! Arrivederci a tutti, cowboy! Non rientri in casa, Pedro Vorrei far finta di dormire in tenda ancora un po' No, posso! Va bene Mammina, ho cambiato idea, rientro! Certo! Mio piccolo cowboy coraggioso Anche ai piccoli cowboy coraggiosi piace dormire in casa certe volte All'asilo di Peppa è finita la lezione Attenzione! Domani festeggiamo la giornata del talento Ti dice cos'è il talento? Hai talento quando ti piace fare una cosa e ti riesce bene A me piace tanto guardare la televisione Ci potrei stare giorni Pensate a qualcosa che tutti noi desidereremmo vedervi fare Io, per esempio, so suonare la chitarra Ascoltate! I genitori sono venuti a prendere i figli Ricordate di scegliere qualcosa in cui avete talento per la festa di domani Per Peppa e George è ora di andare a nanna Ma io non posso dormire adesso Non so cosa farò domani per la giornata del talento Ma tu sei piena di talenti, piccola mia Sì! Sono brava a saltare Sono brava a cantare Brilla, brilla, stella in ciel E so anche ballare È difficile scegliere un talento solo Quando si sanno fare tutte queste cose Non ti preoccupare, potrai decidere domani stesso Va bene! È la giornata del talento Io sono brava a saltare Sono brava a cantare E anche a ballare Mi sono esercitata fino a tardi ieri sera Anche io mi sono esercitata a vedere la televisione ieri sera Ma questo non è un vero talento Almeno la maestra ha detto che non lo è Che posso fare allora? Chi vuole mostrare per primo il suo talento ai suoi compagni? Danny Cane? Io so suonare il tamburo Posso suonarlo ancora più forte? No! Sei stato bravissimo, Danny! Avanti, Pedro Pony! In che cosa hai talento? Nei giacchi di prestigio Dunque, qui abbiamo un bicchiere d'acqua Attenzione, si vede attraverso E ora, con una piccola magia segreta Farò scomparire l'acqua Per favore, chiudite gli occhi, prego Aprite gli occhi L'acqua è scomparsa Mille grazie Emily Elefante Farò una suonata per Flauto Dolce Dici, Rebecca, qual è il tuo talento? Io so fare un verso particolare Ma funziona solamente se mi metto sulla punta dei piedi È stata molto brava, Rebecca Sì, ma io che cosa posso fare? Candy, tu in che cosa hai talento? Nel salto Ma volevo anch'io saltare alla corda Vabbè, pazienza Tanto posso sempre cantare e ballare Signore e signori, vi canterò una canzone Brilla, brilla, o stella in ciel Non importa Tanto posso sempre ballare Susi Pecora, tu in che cosa hai talento? Io so ballare Non è vero Tu non sai ballare Ai ai, ballare era l'ultimo talento di Peppa Mi fa molto piacere che ognuno di voi abbia scelto un talento diverso da mostrare ai propri compagni E adesso chi rimane è ancora Peppa Io volevo saltare oppure cantare o ballare ma hanno già fatto tutto Si può avere talento per qualsiasi cosa, Peppa A parte guardare la televisione, naturalmente Pensa a qualcosa che desidereresti fare con tutto il cuore Sì, ci sono Ho trovato qualcosa che so fare veramente molto bene Chissà qual è il talento di Peppa Il mio talento speciale Quello che so fare meglio di ogni altra cosa è saltare su e giù nelle pozzanghere di fango A Peppa piace saltare su e giù nelle pozzanghere di fango A tutti piace saltare su e giù nelle pozzanghere di fango Il compleanno Il signor zebra, il postino, consegna una lettera a casa di Peppa Oh, guarda! Qualcuno ha ricevuto l'invito ad una festa Sarà sicuramente per me C'è scritto a George Pig da Edmond Elefante Per favore, vieni alla mia festa Non c'è scritto per George e Peppa No, solo George Tanto non sarei mai andata ad una stupida pesticciola per i piccolini come George Pronto? Oh, è per te, Peppa È Emily Elefante Pronto? Pronto, Peppa Che ne dici? Ti andrebbe di venire alla festa di Edmond come mia amica? Oh, sì, grazie tante Mia mamma vuole che le diamo una mano con i piccolini Davvero? Sì, possiamo aiutarla Lo sai che anche Danny e Susy ci daranno una mano? Oh, bene, ciao! Gli invitati arrivano alla festa di Edmond Elefante Oh, ecco i miei assistenti Buongiorno, signor Elefante Direi che la festa può cominciare Alzi la mano, ti vuole giocare alle belle statuine Adesso vi dico le regole del gioco Quando la musica parte, ballate E quando la musica si ferma Vi immobilizzate come delle statuine Pronti? Ai posti? Via! Saffa le gambe Dovete ballare quando c'è la musica Tu stai ancora battendo le palpebre Sei fuori! Ti sei mosso, George Sei fuori dal gioco Anche Edmond e Richard sono fuori Quindi Zaza ha vinto questo gioco Mi riva! Hai vinto una medaglia È una medaglia fatta di plastica dorata Mamma, abbiamo finito di giocare alle belle statuine Molto bene Adesso giochiamo a passa il pacco Sì! Quando la musica suona Passate il pacco al vostro vicino Quando la musica si ferma Strappate il foglio più esterno del pacco Pronti? Ai posti? Via! George Passa il pacco al vicino Su! Edmond ha vinto una medaglia Non perdere tempo, Richard Anche tu devi togliere uno strato di carta Richard ha vinto una medaglia George ha vinto una medaglia Passa il pacco Forza! Ai ai George non vuole passare il pacco al vicino Buono, George! Questa volta ha vinto il piccolo Zaza È un peluche gigante Edmond ha vinto Mamma, anche il gioco del pacco è finito Magnifico! È ora di fare merenda adesso I più grandi hanno occupato tutti i posti Questa è la festa di Edmond Ricordate? I più grandi mangeranno dopo i piccolini Ah, è vero! Siamo noi, i più grandi Succo di futta! Succo di futta! Succo di futta! Geato! 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 Ancora, grazie! Tanti auguri a te, piccolo Edmond! Tanti auguri a te, Edmond! La festa è finita Complimenti agli assistenti Avete lavorato davvero sodo Sì, non è per niente facile occuparsi dei più piccolini Ho bisogno di riposarmi un po' E io ho bisogno di una vacanza Super patato! Oggi, il signor patato è in visita alla scuola di Peppa Piccolini, il signor patato è venuto qui da noi oggi Per parlarvi di quanto sia importante mangiare frutta e verdura Oh! Desidero mostrarvi un film che si intitola Super patato! Sì! Super patato! Fuori! Oh, mi è volato via il cappello! Super patato, aiutami tu! Per il potere delle verdure, sono qui per voi! Ha ha! Grazie infinite, Super patato! Ricordate, ragazzi, mangiate cinque porzioni di verdura al giorno! Frutta e verdura non è da scordare Cinque volte al dito la devi mangiare E adesso abbiamo un ospite molto speciale! Indovinate un po' di chi si tratta? Non è il mio papà, vero, signor patato? No! E non è neanche il mio papà, vero? No, non è il papà di nessuno di voi! Allora è la mia mamma, vero? No, non è parente di nessuno di voi, piccolini! L'ospite speciale che è venuto a trovarvi oggi è... Super patato! E sta arrivando! E arrivava! Ma per farlo venire qui bisogna prima chiamarlo! Super patato! Super patato! Molto bene! Vado a vedere se sta fuori ad aspettare! Chiamatelo ancora! Super patato! Super patato! Per il potere delle verdure, sono qui per voi! E viva! Meraviglioso! Allora, chi di voi desidera fare una domanda a super patato? Chiedetemi qualunque cosa riguardo alla frutta e alla verdura! Qualunque cosa! Qual è stato il palazzo più alto da cui sei saltato giù? Che cosa hai detto? Perché le carote mi piacciono così tanto? Te lo dico io perché? Perché sono una verdura davvero deliziosa! Tu sai correre più veloce di un treno? Qual è la verdura che fa correre più in fretta? La tua è un'ottima domanda! Fammi pensare, direi... Cavoletti di Bruxelles! Vorrei sapere, sai, mai mangiato una patata? Ah! Frutta e verdura non è da scordar! Cinque volte al dì tu la devi mangiar! Chiaro? I dottori ora raccomandano di mangiarne sette porzioni al giorno! Ah! Sette volte al dì tu la devi mangiar! Va bene così? Certo! Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi! Troppo buoni, troppo buoni! E ricordate ragazzi, mangiate frutta e verdura! Super Patato è volato via dalla nostra scuola! Oh, peccato! Me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico! Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io! Arrivederci! Andiamo, piccolini! Tu ti vuoi salutare il signor Patato? Oh no! La macchina del signor Patato non parte! Non riesco più a uscire! Il signor Patato è bloccato! Aiuto! Voglio uscire! Che cosa possiamo fare? Aiutatemi! Dobbiamo chiamare Super Patato! Fatemi uscire! Super Patato! Super Patato! Credo che sia troppo occupato per venire a salvarmi! No, silenzio! Ascoltate! Non penso che funzionerà questa volta! Ma Madame Gazella, anche lei lo deve chiamare insieme a noi! E va bene! Vieni ad aiutarci! Super Patato! Ecco, non funziona! Forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino! È un aeroplano! No! Quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure, sono qui per voi! Credito! Super Patato è arrivato in soccorso! Grazie alla mia super vista vegetale, mi sono accorto che il mio caro amico Patato è in difficoltà! Sì! Tiralo fuori dalla sua macchina! Utilizzerò tutta la forza della frutta per sollevare questo tettuccio! Ta-da! Super Patato ha salvato il signor Patato! E via! E ricordate ragazzi, quando c'è un problema... Mangiate sempre frutta e verdura! Frutta e verdura non è da scordare! Cinque volte al dì tu la devi mangiare! Chiaro? No, sette! Sette volte al dì tu la devi mangiare! Perfetto! Ai vecchi tempi! Susi Pecora è venuta a giocare a casa di Peppa! Ciao, ciao Susi! Ciao, ciao Peppa! Ho portato una cosa da farti vedere! Guarda un po'! Che cos'è Susi? Questa è una fotografia! Riesci a indovinare chi è? Oh sì, è una pecora alla neonata! Sì, sono io! Ma tu non sei una pecora alla neonata! Lo so, questa è una vecchia foto! Me l'hanno scattata quando ero piccola! Smettila di prendermi in giro Susi! Non lo sai che tanto tempo fa anche tu sei stata piccolina, Peppa! No, non è vero! Non ci credo! Se non vuoi credermi, vallo a chiedere alla tua mamma! Mamma Pig sta lavorando al computer! Mammina! Dimmi, Peppa! Susi mi racconta una montagna di sciocchezze! Ma no, non è vero! Mi ha detto che tanto tempo fa io ero una neonata! Beh, ha ragione! È proprio così! Guarda, dovrei avere delle foto sul computer! Indovina un po' chi è? È Alexander! Alexander è il cuginetto di Peppa! No! Quella sei tu da piccola, Peppa! Quando eri neonata! Che cosa avete tanto da ridere qui? Guarda, papino! Quella è una mia fotografia di quando ero appena nata! Mi ricordo di quella foto, Peppa! Risale al primo giorno che siamo entrati in questa casa! Come il primo giorno? Quando eri piccola, ci siamo trasferiti in questa casa! Abbiamo caricato tutte le nostre cose sulla macchina! Mamma Pig ha appeso delle fotografie alla parete E tuo padre ha fissato al muro una mensola Poi nonno Pig ha piantato degli splendidi fiori in giardino Dove sono finiti gli splendidi fiori piantati da nonno Pig? Se ne è occupato tuo padre Beh, ecco, questo terreno non era molto adatto a quei fiori E poi avevate bisogno di spazio per giocare A te e Susie piaceva tanto giocare in giardino Vuoi dire che io e Susie eravamo già amiche a quel tempo? Certo! Tu e Susie siete sempre state buone amiche Allora, tanto tempo fa, io e Susie ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere Ma no, Peppa, eravate troppo piccole Non sapevate ancora camminare Peccato E allora cosa facevamo? Piangevate Facevate i ruttini E ridevate Eravamo solo neonate La piccola Susie E la piccola Peppa Gugugaga, Gugugaga Dopo un po' avete iniziato a camminare E Giorgio dov'era? E Giorgio dov'era? E' un po' è un po' speciale Ti piaceva molto saltare nelle pozzanghere di fango E mi piace anche adesso Aspettatevi, scatto una foto A Peppa piace tanto saltare nelle pozzanghere di fango Le è sempre piaciuto tanto saltare nelle pozzanghere di fango E la piccola Aspettare nelle pozzanghere di fango